Ciao a tutti, sono Giuseppe Scollo e mi occupo di web marketing, in particolare di strategie pay per click, quindi principalmente Google Ads e Facebook Ads. Faccio parte da circa ormai tre anni, credo, del club di Tag Manager Italia, quindi della membership a pagamento e ne sono un fiero sostenitore e ne vado fierissimo perché è un plus, ti permette di restare sempre aggiornato su tutte le novità che riguardano il nostro mondo, in particolare la web analytics e gli strumenti di misurazione. Faccio alcuni esempi, Google Analytics 4 era già un po' che Matteo ne parlava quando ancora si parlava di app più web, quando si chiamava nella versione precedente. Faccio ancora un altro esempio di aggiornamento, il famoso cookie geddon, se ne parla nel club da quasi un anno, problema che in realtà sembra essere venuto fuori con il famoso messaggio che abbiamo trovato su Facebook, su tutti i nostri account da quando è iniziata la lotta tra iOS, iOS 14 e Facebook. Quindi diciamo che lo consiglio a tutti se volete effettivamente misurare in modo concreto, essere indipendenti dal programmatore perché molto spesso noi che ci occupiamo del pay per click dobbiamo fare affidamento per fede al programmatore e magari il programmatore lavora in un'altra agenzia e non è detto che abbia gli stessi nostri, diciamo le stesse nostre logi o gli nostri stessi interessi e quindi che dire, lo consiglio a 5 stelle, ne sono da 3 anni membro e sono felicissimo di farne parte. Buone azze a tutti!